Ciao a tutti, oggi prepareremo il tartufo gelato al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è 10 minuti più 6 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono zucchero a bello, panna fresca per dolci, latte condensato, caffè in polvere, caffè ristretto e cacao amaro. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere la panna che deve essere ben fredda, noi l'abbiamo messa per 45 minuti in congelatore e lo zucchero a velo e la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere il caffè solubile, il caffè espresso che deve essere freddo e il latte condensato. ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 2. Versare il composto nella ciotola con la panna. Amalgamare bene con la spatola. Versare i stampini monoporzioni in silicone. Coprire con pellicola trasparente e riporre in congelatore per almeno 6 ore. Successivamente sformare, sfolverizzare con cacao amaro e servire. Tartufo gelato al caffè. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!